E con questi sguardi intensi vi diamo il benvenuto su Remnant of the Ashes, un gioco che abbiamo ottenuto gratuitamente su Epic Store Games, avevamo in mente di comprarlo ma l'abbia bendata ci ha riso per una volta, ogni tanto capita anche questo, abbiamo deciso di startare questa campagna Coop, io sarò un ex accolito quindi sostanzialmente un guaritore a media distanza che utilizza una doppietta, madonna mia che bella, mentre Federico ci fa giù pesante con, che cazzo c'hai? Come il mio solito d'altronde, ho un fucile a pompa, una pistola, vabbè la classica pistola che hanno tutte le classi e il martellazzo Wow, abbiamo completato il tutorial e siamo passati attraverso una pietra rossa e boh, cominciamo con la primissima missione Perfetto Devo dire che il gioco a me ispira molto Sì, allora, l'atmosfera c'è L'atmosfera c'è Il loot pure che Federico si si... o cos'è? Eh, Federico... Ah, le raccoglie che raccogli tu, vè, arrivano anche a me Io e Delen abbiamo dovuto farlo senza di te Non ti chiederò di gettare la spugna, non un'altra volta Ti chiedo solo di non pensare che ti stia sacrificando per noi, ci siamo già sacrificati abbastanza Ah, abbiamo già il loot davanti Ah, interagiscono anche i personaggi fra di noi Ti dicono la stessa cosa, però Sì Sono più di uno, a quanto pare Sì Eh, di qua sulla sinistra vedo degli oggetti Ma non so se c'è qualcosa Cucù? Ok, direi di sì L'odio Abbastanza Ma ora raccoglie le robe S'è ora cogli... Perché è bianco? È razzismo inverso Perché è bianco e gli sparano tre colpi di fucilapompa in fronte? Ma sta musichetta? Ah ok, non pensavo Che cosa c'è? Ma ho usato la scatola di munizione e ho preso a... Fede? Cosa? Quella roba lì sulla destra Cos'è quella roba lì sulla destra? Ma che cazzo fai? Cos'è sta roba? Mi spacca la... Coprimi le spalle Mi spacca la testa Hai rotto Il cazzo Dio buono Non so sappiamo anche dell'esistenza dei brutti root Cosa c'è? Ah ok, c'è Gesù qua dentro Ah ecco il checkpoint No 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 Ah sì 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 Pensavo viaggiasse Sta caricando le munizioni? Ma anche io ve l'ho affermato Ah sì Munizione e cuore di drago Mi compenso e genna tutti i nemici di base Ok, praticamente il falò Ho mangiato pesante Sarà mica da menare sta roba Mi sa che abbiamo fatto una cagata Mi sa che abbiamo fatto una cagata Sono morti Fede Ribazzano Sono morti Non quello però Non quello Non quello Aia 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 Nel ti ho sparato in fronte io C'è sulla nuca Nel Oh 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 Mi hai sparato Chris? No Sì Ma no Sì Oh 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 Gesù Cristo Ma cos'è sta roba? Ma stiamo scherziamo Dio buono Ma io adesso lo prendo In pieno stomaco Proprio mille spalle Proprio mille spalle Ah oh Che schifo No no che non stare lì Chissà perché immaginavo fosse corrosivo Oh ma che cazzo sono Ma è sto qua Quello lì che ha fatto saltare il fosso di Elvio Mamma mia Oh porca ma Coprimi Tutto a poste? Sì Adesso sì Potreffazione root Ragazzi sto gioco È molto più impegnativo Di quanto ci potessimo aspettare Un altro altare Aspetta aspetta Distruggerlo Eh sì Che te ne pare Bastardo Ragazzi io sto gioco Ma sto gioco io l'adoro ragazzi Cioè è una cosa che veramente Ma voi non potete capire Porco ma Ma si è rigenerato la vita? Ah ti ha già sciottato Fede Che cazzo di momento hai scelto per morire? Io? Ma avevo un quarto di vita Cioè un terzo di vita Pensavo Fede ho paurissima Ma cos'è sta roba Che ci si sta vicino Ah 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 Nononononononononononi Oh porca Ho tenuto pure le munizioni Ragazzi è Mi ha spaccato la testa Ok Fede, arrivano Fede, ecco questo qua Eccolo là Mi metti un'ansia della madonna Distrailo Lo distrago io Mi ho dato fuoco Ce l'ha con te, sì Ok Bella Raffanculo Tu cazzo dura il sanguinamento Come faccio? Ah, 4 Ok Qua ci sono munizioni per pistole Sì ma ho usato la cassa Ok, preparati Fede, altre Altre cassa Ok, esperienza completa Ah, questo qua cazzo è quello lì Dai, i danni ci sono I danni ci sono Eh, Kreme mi devi curare Mi devi curare Ho il sanguinamento Ma fatti i cazzi tuoi Occhio Eh, sei ancora Eh sì Per questo ti ho detto di curarmi Perché ho metà vita Con il sanguinamento Io non so se posso Fa niente, fa niente, fa niente Dai Sono arciera Ah, è quello di prima Eh, quasi pronto Ricorda che con Q ti curi Se non l'hai finito No, ne ho ancora uno Ma Oh porco Ok Che te ne pare Basta Uh Cristallo di luminite Vedo la luce Federico Anch'io vedo la luce Spero che non sia Dai Bene ragazzi Riprendiamo L'avventura Dopo una breve sosta Riforci Oh madonna La nebbia come su Dark Souls Oh mamma Cominciamo Non è l'unico nemico però Stio buono Quanti cazzo sono Eh, Pozzo Vieni qua, vieni qua Vieni qua Dentro Vede dentro Entra dentro Cristo santo Mi ho dato fuoco Ah, comunque Fede Prima che mi diventi Quel perk Lavoro di squadra È un raggio Dentro il quale Prendiamo meno danni Siamo più forti Assieme Ecco Sto sanguinando Ascolta Non stiamo fermi qua Vieni Eh no Non conviene Temo È dietro di noi Purtroppo non posso curarti No no Uso il quale In caso Uso il quale Attenzione che arriva Il poso brutto Sono sceso Arrivo È pieno di mostri qui Arrivo È attaccato È attaccato noi Fede Attenzione che tira La roba che cade Dio buono Mi ha preso Con tutti i colpi Cazzo di Buddha Ragazzi Ok Sto Tirare le cuoie Porca puttana Ah vi ho detto Dobbiamo tentare di focussare lui Perché con me Continua uno spawn Ah Lo sto prendendo Sanguinamento per due Bene Sanguinamento per tre Vieni da me Non so Oh il cuore Non mi ha fatto un cazzo Sali su Sali su No ma mi prendeva Comunque l'area curatrice Ah ok Niente ragazzi Sono morto Ah sei morto morto Benissimo Sono morto morto Ma mi stai aspettando O Sì 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 Niente Cri Ti tocca salvare la partita Non sei magari Ok no Via da qua Via da qua No io gli trovavo 180 Io però A punto A punto Merda È morto No Un giocatore di Dark Souls esperto come me non può morire così Vuole ben altro Non l'ho visto Ok ragazzi io direi di andare a potenziare gli oggetti No andiamo dopo Bello però bello Si sta Sì 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 è stato è stato un bel acquisto Ah no Questo è il momento della rivista Come cani Ma ha cambiato l'estetica per caso no No Allora Quanto pare non dobbiamo stare fermi E io ho dato fuoco Ah Attenzione che arriva Ho notato Sono morto Assurdo Arriva Attenzione Dovevo pularmi Lo cazzo è però Arriva È qua sopra Sta mirando me È andato Sempre sopra Mio caro Sti mostri base Arriva Ma dai Scappa subito È dietro Ok È qua vicino a me Fede È qua dietro No È che sta andando bene Arriva Scappa È qua davanti a me Purtroppo È qua davanti a me Arriva Ogni volta Che fa sta roba Arriva Io ho un colpo e sono morto Ah ok Mi curo Porco Preso Oh viene Tirami su Ruttino La luce C'è qualcosa Secondo te No Ah vedo delle scale Torniamo in superficie Sì Meno male Meno male Meno male Oh Watch this Uh si anima Ma è quello per viaggiare Aspetta aspetta Vieni 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 un attimo Saliamo Saliamo Scusa Eh Ce ne andiamo senza vedere cosa c'è qua Beh Era un checkpoint Non è che per forza devi andartene Ci stai già parlando tu con il vecchio Ok Ok La casa del vecchio dente di fango è casa tua Tu lo senti? Mh Come vivi qua Non è che per forza Solo un vecchio fangozo alla fine del mondo E questo vecchio Elio El Elio El Elio El Elio Cottero Potrebbe essere un mondo Non è che per forza Non è che per forza Non è che per forza Mi sento molto solo Ma così ogni visitatore occasionale è vangradito Sì Sì Ascoltami ho già parlato fin troppo Avrei mille storie Ma credo tu sia qui per un motivo Quindi Ti sta tenendo d'occhio Vorrei dare un'occhiata alla tua merce Eh ragazzo vai Eh pensavo si rompeso Oh quello è un fruto Ce l'ha con te Veloci ad attaccare Sta zitta che non è il caso Sta zitta per favore Oh merda L'hai visto? No Dietro fede È volato via Mi sono sufficienti per creare una moda arma Non importa No ma credo che tu possa avere due mod insieme Eh sì perché ce n'hai una per il pompa e una per l'arma che ha insomma Siamo arrivati a Rottamopoli What the fuck No Non ascoltano Sì Junk town Sono come Come un pesce a pancia in sua Sì 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 Un ospite Solo un Silenzio Voci Voci A migliaia Tutte con fosse Tutte che osservano Tutte che parlano una sopra l'altra Finché non parlano Mi sono E allora io Non posso Non posso Aiutare Aiutare Il distruttore Ti vede Sa cosa fai Tutti loro lo sanno Ho dimenticato Sì Ho dimenticato tutto Non dimentico niente La quercia è tutta Tutta quercia è tutta La quercia guarda Vero Sempre a guardare No Ho trovato La vista Sentito La Sussurri 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 Vattene Non voglio Non obbligare No Oh 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 Io sto guardando dall'altra parte La maschera contorta Oh la luce di Cristo Oh una penda Trova la root madre Ho fatto Ruti Ho fatto Allora Stazione della cappella Stazione della cappella Che stazione del cazzo Aspettavo che lo dicevi What the fuck Temo che dobbiamo potenziare le armi Oh Roba Roba rara Nenunita Temo che dobbiamo potenziare le armi Cosa te lo fa pensare Il fatto che faccia un poco danno Va bene saliamo Qua c'è un cadavere Eeeh qua ce n'è Uno cattivo Oh Dio boh Orca ma Oh Eeeh per forza la venda Devo usare Siamo dei coglioni Qua ce n'è un po' Ah Ma fatti i cazzo i tuoi Cosa che ha detto? Si Mentista Bastardo Ho detto nazista Che cazzo Nazista Ti giuro Beh magari I root Tra di loro Hanno un regime totalitario Questo è Ancora sconosciuto Nell'adrenalina Ah Belli Procediamo Uh c'è un check a point Urku faus Anche dietro Fede arrivano Quindi se puoi Ultare Ulta Porca miseria Ho appena detto Ok è morto Allora Mi hai fatto incazzare Eh non pensavo Ho detto C'è un brufolo Proviamo a vedere Sì ma che mira di meno Perché Vede l'ha colpito lui Hai visto? Eh sì Oh qua c'è Dello e ferro Per uno C'è una pustolina qui Aspetta un attimo Esatto Un po' cazzo è veloce quello Era già morto Pazienza Il disprezzo è forte Uh Mi è arrivata contro la telecamera Lascia Oh c'è della roba lì sopra Dove? Qua sopra Ah sì Va bene dopo Problemi Cos'è? No No Ok ok Non mi posso avvicinare Non mi devo Avvicinare Ma che cazzo fai Ma che cazzo fai Ah ho finito le munizioni Sì siamo arrivati dall'altra parte Praticamente dalla metropolitana Mi spara Ti sei cagato in mano Chiesa del presagio Chiesa del porto Eh per favore Parole dio buono Ah lì c'è il boss Torniamo a vedere Allora vieni La prima regola dei souls È questa Quando c'è una nebbia Aspettati guai Siccome questo è un soul like Souls like Io i guai me li aspetto Parla con la root madre Quindi Ho alcun altro Che cerca i consigli Dei root Ma veramente no Avvicinati Giovane Sei tu Quello che è stato trasportato Arriva Noi Vediamo tutto Siamo la root madre Un recipiente di saggezza Attraverso il quale Parlano i root Cosa stai cercando Cosa stai cercando Mi faccio tre passate Al tre pezzo Intrano a tollo Sto cercando il fondatore E lui E lui Il fondatore Ah ma c'è Esce tutto Consumato da orgoglio E disperazione Ora è sparito In un altro mondo Un presagio Involontario Di Davvero Che sia arrivato Il momento Sì Diventa Più chiaro Vuoi mettere fine Ai root Ma la strada Ti è ignota Questo recipiente Conosce la strada Che cerchi Dobbiamo Aiutare Ma lontano Dalle orecchie Che ascoltano Ci verranno A cercare Quando Spezzeremo Il legame Ci proteggerai? Ci crederai? Prima alcune domande Però Non posso rispondere Qualcosa Che loro Non devono sapere Almeno Non Mentre sono Intrappolata Nei loro rami Sappiamo Come trovare Il sentiero Che cerchi Per proteggere Ok Altrimenti Chi sei? Questo Recipiente Un tempo Era un bambino Ora È uno spettatore Che attende La fine Di un inizio Una profezia Ti Lontano Il percorso È tortuoso E arduo Il groviglio Del mondo Non si può Dire altro Mentre sono Legata Aiut Abbiamo visto Tutto Fino al Collassare Del tempo Molte Disgrazie Ma tu Sei la luce Più brillante Gli segnatori Sono morti Il drago È libero Pure Una spia Non ha Alcuno Bene Ti proteggerò Io Faccio Che Non avevo Dubbi Due minuti Dalle finestre Allora Tu difendi Il lato Sinistro Io Quello Destro Copy That Surgeon Fuck you Se hai bisogno Di una mano Dimelo Eh Marciera Davanti C'è un cristallo Lai in fondo A destra Ma questa Questa sta Prendendo Pugnile Che verino Spirti Un attimo Guardala La pista Fai ciò che devi Prende pugnile La radice Aspetta che Proviamo la mod Un po' Cristallo E io Buono Ocupati Di quelli O degli Altri Morto Sì Ottimo Cazzo E' buono Il marchio Del cacciatore Però Se Dietro Mi devo Mi devo Bendare Non ho le Bende Come non Le bende Ok Ce l'ha Fatta Frutta Tutto Libera Ma dannazione Non ci sta Grazie Ho imparato Molto Dai Ruth Ti aiuterò Combatteremo Fianco A fianco Allora Mi devo Riposare Guarda La Si l'abbiamo Visto Cerca il passaggio Poi Vienimi a Cercare Tra i tuoi I nostri Simili Nel luogo Che chiamate Ward Conosco La strada Ci rincontreremo Benedizione Materno What the fuck Ah Riduzione del danno a vista Ah Ma Vuoi vedere L'anello Che abbiamo Trovato Prima era suo Mi sa Mi sa di sì a sto punto Attraverso il cimitero Noi ce ne andremo Yey Eh questa qua non è stata così complicata Mi aspettavo Si che mi aspettavo peggio onestamente Però You know Credi qua Credi qua Coprimi Coprimi C'è una What the fuck E' qui l'evocatore Ho poppato la ulti Ma gli scarti ancora non li abbiamo usati Ho sbaglio E che? Gli scarti Vieni che c'è la luce di Cristo Vede senza ammazzarti Vabbè ci sarà anche un checkpoint dopo C'è un boss Federico Io sai quanto rido Vabbè un cuore Anzi no mi curio il tuo Tanto Si ricarica Checkpoint Hai visto? Ed è il Calore penso abbastanza Statico di questo falò Che noi ci salutiamo E ci ribechiamo Al prossimo episodio di Remnant Vrondi Ashes Come cazzo si chiama questo gioco? Vrondi Ashes Questo è quanto Bye Ciao a tutti Ciao a tutti